Giorgio, it's your time, ti invito direttamente qua facci una domanda e dacci una risposta e poi ne daremo una anche noi Allora io avevo come proposta, avevo lanciato un tema con cui ho avuto a che fare negli ultimi mesi per parecchio e non ho trovato alcuna soluzione, si sente? Si sente? Più vicino? Ok E non ho ancora trovato una soluzione, siamo tutti freelance, io sono avvocato per chi non lo sa, non mi conosce e a un certo punto della mia carriera professionale ho avuto la necessità di crescere, di fare uno step successivo per offrire nuovi particolari servizi ai clienti e ho avuto la necessità però di non lavorare da solo, come singolo, avvocato soprattutto una necessità imposta anche dal mercato perché come molti di voi saprete le grandi aziende non vengono a cercare ad esempio avvocato Giorgio Trono ma vanno da studio legale XY che sta a Milano e probabilmente questa è un qualche cosa con cui potreste avere a che fare anche voi non vanno dal singolo freelance le aziende ma possono andare dall'agenzia che magari si poi rivolge a voi come una sub fornitura in sub appalto quindi la domanda che volevo porre è che ponevo a tutti voi perché non sono venuto a conoscenza, ho cercato, ho chiesto in giro ma non sono venuto a conoscenza di altri freelance che hanno voluto fare il salto diciamo, si sono in senso lato, lo dico, associati con altri per poter offrire nuovi servizi, nuove alle imprese per cambiare anche il target di riferimento del loro lavoro avvio la discussione, cioè dite tutto se avete qualcosa da dire ho parlato con molti di voi e alla fine sembra quasi che l'agenzia sia come dire l'ombrello sotto cui ah vabbè c'è l'agenzia, ci pensa lei al massimo i grandi lavori arrivano così però come riuscite a fare, come riuscire a fare da sé volevo capire anche Chiunque voglia partecipare alla discussione, alla conversazione è invitato a venire qua, così lo riprendiamo, la riprendiamo il tema è un tema complesso che ritroviamo anche in tanti ambiti sia nella comunicazione sia in generale nei servizi io dico le soluzioni che ho visto in giro pur senza averle sperimentate tutte ci sono quelli che si mettono insieme non fanno la società ma fanno un marchio quindi in comunicazione fanno anche ieri abbiamo le due partite IVA ecco e abbiamo un brand e poi fatturiamo ora l'uno ora l'altro con una gestione dei ricavi che viene fatta con una sorta di contabilità alternativa conti a latere in cui poi ci si compensa gli uni con gli altri è quello ad esempio che abbiamo fatto anche noi come Digital Update per un sacco di anni come racconto ogni tanto una delle mie gag mia di Gianluca è dopo tanti anni di società di fatto abbiamo deciso di regolarizzare la nostra posizione e quindi di fare l'SRL perché ci sono i bambini siamo vecchi se dobbiamo lasciare qualcosa però ecco per noi il brand Digital Update è stato è nato nel 2012 la società nel 2018 quindi tanto tempo chiaro che questo significa una totale fiducia reciproca sul fatto che comunque si tiene traccia di tutto quello che succede nel nostro caso specifico ad esempio tutto era facilitato dal fatto che io la mia partita IVA era una ditta individuale quindi io come ditta individuale ero più semplificata nel fatto di fatturare servizi diciamo che facevamo in tanti gestire tutta la parte di spagamento dei fornitori e suddivisione delle quote rispettive di utile che generava l'attività poi a un certo punto quando le cose sono diventate più complesse, articolate quando abbiamo deciso di cominciare a fare anche corsi online eccetera e poi appunto ormai eravamo era passato tanto tempo era il momento di regolarizzare il tutto e abbiamo fatto l'SRL però noi l'abbiamo fatto nel momento in cui ormai era chiaro che saremmo andati avanti anzi con l'idea di crescere di fare qualcosa di più articolato ho visto a volte gruppi di persone che si erano riuniti come freelance con un brand pur rimanendo partiteva individuali e poi hanno avuto problemi soprattutto quando sono tutti liberi professionisti perché quando si è tutti liberi professionisti e basta c'è sempre il problema delle ritenute d'acconto recuperare le certificazioni dei compensi diventa un po' un casino oltre al fatto di vendere servizi che in realtà sono subappaltati ad altri un'altra formula che vedo non so se possa funzionare anche come agenzia a cui forse Piero può raccontare qualcosa è la cooperativa che che è un'opzione c'è un sacco di gente certo ciao sono di nuovo Piero allora la cosa che ho visto è che anche noi parliamo con tanti freelance che noi siamo una cooperativa di autogestione cioè le cooperative sono quelle cose un po' grigie mettiamola così in Italia che però funzionano come delle aziende normali ma pagano poco la gente questo la mettiamo da qua poi in realtà ci sono le cooperative di autogestione dove quello che facciamo noi ci sono delle persone che dicono o lavoro da solo o se mi piglia il guizzo lavoro con gli altri quindi ad esempio io e Valentino ogni tanto facciamo progetti insieme però alla fine c'è un'unica realtà che mette la fattura e ce la gestiamo internamente e ogni tanto parliamo anche noi con i freelance perché anche noi ogni tanto dicono ma posso farlo lì posso farlo lì perché il tema vero che vengono anche da noi è che c'è questo problema di crescere le aziende non ti guardano e il problema con le soluzioni che hai detto prima di solito è quando ci sono più partite IVA che vanno dal grosso cliente che ti guarda e dice tu mi fai un'unica fattura io non mi metto a fare 34 singole fatture da partite IVA diversa e quindi di solito passano per l'SRL cioè quella è l'altro grande salto che fanno quindi dicono in cooperativa in SRL cerchi di darti un attimino struttura perché quando parsi dall'ufficio acquisti da qualcuno che vuole negoziare dicono no guarda uno no 34 fatture no vi aprite l'SRL è un problema vostro non voglio saperne niente anche perché molto spesso sono tra le tre le otto persone nella mia esperienza le persone che fanno la mini agency mettiamola così e a quel punto otto fatture diverse più volte l'anno ti guardano e ti dicono no e quindi a quel punto uno o si fa l'individuale e paga tutti gli altri o si fa l'SRL e assume tutti gli altri coraggioso molto oppure c'è anche questa io ovviamente sapete quale mi piace di più però appunto l'esigenza grossa è quella perché poi l'altro grosso problema nel fare l'agency è capire cosa fanno gli altri come freelance che quello è il grande ok sei un grafico o illustratore che qui forse ecco chi ride l'ha capita tutti gli altri non sanno la differenza e quindi anche qui ogni tanto fare i progetti insieme è molto sfidante questo anche internamente da noi noi siamo una cinquantina di soci non li conosci tutti quindi anche quando fai un associazionismo tra freelance che vada per crescere a fare progetti più grandi è proprio lavorare con gli altri e fare dei gruppi di lavoro sensati e lì però è molto molto complicato non ho una risposta al momento amministrativamente io sono molto contento perché è comodo e io sono pigro sono un PM però alla fine ci sono quelle che hai detto tu puoi farti la ditta individuale gestisci gli altri le X partite IVA cooperativa ma non è che al momento non ce ne sono altre c'è che ha provato a fare l'associazione che per me è pericolosissimo più che altro ad esempio hanno fatto un'associazione di freelance dove gestiscono i progetti centralmente ma poi non sanno come farsi pagare per il lavoro di gestione il problema è quello il problema dell'associazione dell'enne partite IVA è che comunque il lavoro di coordinamento è sempre necessario un po' come quando prima raccontavo di Cefar il tema non è chi fa questo chi fa quest'altro è proprio chi tiene insieme il tutto e tiene traccia del tutto ecco questo è un lavoro di per sé quindi quando dividiamo noi ad esempio come digital update negli anni in cui non eravamo SRL dato che io gestivo tutta la parte di amministrazione tutte le fatture passavano da me tutto il coordinamento dei progetti passava da me pagate le aule pagate i docenti incassate le quote dei corsi non era un 50-50 pari perché comunque io facevo una parte del lavoro operativo e organizzativo che Gianluca non faceva e questo ci stava per cui avevamo valutato il mio lavoro di coordinamento nel caso della cooperativa del project management secondo me questo è un ruolo a sé stante che però è più difficile da far riconoscere sia fra le persone dello staff sia forse dal cliente e da quotare comunque noi lo quotiamo a prescindere la gestione secondo me è più facile internamente ma perché è dichiarato proprio inizialmente guardate costo di gestione 13% punto bene definito ex ante però ti dico il percorso è il percorso che hai fatto tu anche o lo fai in cooperativa e poi ti fai l'SRL o fai le partite IVA e poi vai verso un'azienda un pochino più grossa però quando incomincia a strutturarti un attimino secondo me o fai un non ci vai molto lontano c'è chi rimane in cooperativa si fa il suo marchio in cooperativa e ad esempio ci sono alcuni soci che hanno fatto questo è il nostro marchio e si ha detto Powered by Pernova tanto la partita vive a quella quindi diventa la stessa cosa del freelance che ne mette una poi escono si fanno la loro però alla fine non ho visto soluzioni molto diverse al momento neanche all'estero io cosa posso dire posso dire che con Tatiana noi abbiamo fatto una società ma non abbiamo fatto un SRL ma una SAS però nel nostro caso c'è anche una terza socia che voleva invece solo finanziare l'impresa e non partecipare alla gestione e lì le forme societarie restano poche quelle possibili e quindi in partenza siamo partiti con un SS invece che con un SRL però a quel punto la forma societaria diventa d'obbligo e invece sempre con come Kanji abbiamo aderito a un progetto più grosso e lì abbiamo fatto due cose differenti che sono una SRL per gestire l'immobile e i costi comuni del gruppo quindi le diverse ditte individuali sono soci di questa SRL che gestisce gli spazi i costi comuni e un contratto di rete misto per poter uscire insieme come un unico brand perché ovviamente l'SRL che gestisce gli spazi ha come tipologia di attività la gestione degli spazi e non può invece promuoversi come venditrice di servizi e entrambe le cose sono manovre pesanti per quella che è la mia esperienza poi va bene abbiamo con Giorgio ne abbiamo parlato un po' ieri sera e sono manovre pesanti perché soprattutto dal punto di vista del tempo e delle energie spese nel strutturare un'organizzazione comune perché hai dei vincoli formali esterni a cui devi rispondere che in qualche modo cambiano un po' la tua forma di pensiero il tuo modo di lavorare e ti devi adattare a tutta una serie di cose che tu come singolo non avresti voluto o ti pesano insomma dall'altro lato ti permettono di fare quelle possibilità quei salti di crescita che altrimenti è veramente difficile come freelance perché vuol dire mettere in gioco magari quelli che sono non so la marginalità dei tuoi ultimi sei anni di partita IVA e giocarteli così e quindi insomma magari ti viene un po' poi un po' troppo batti cuore e se un po' troppo batti cuore poi rischi di stare fermo allora hai fatto tutta sta maranovra per nulla e basta non ho nessun tipo di risposta perché siamo ancora agli inizi i risultati li vedi poi e quindi se qualcun'altro ha consigli o altre a mio parere rodarsi senza essersi dati una struttura social la SRL subito è un passo grosso rodarsi come collaboratori prima di mettere in piedi una società a mio parere vale la pena perché comunque ci sono dei costi ci sono delle complessità proprio gestionali che non sono da sottovalutare quindi essere sicuri di lavorare bene insieme prima di essersi sposati è come convivere prima di sposarsi per l'appunto è vero per tanti anni in altri casi come chi si sposa senza convivere per l'occasione del momento piuttosto che fai l'atto di fede iniziale e se parti subito strutturato sei più pressato nel fare più nel risolvere più in fretta quei nodi che se invece stai provando puoi man mano magari fare nel tempo però magari in quel tempo perdere possibilità o altre occasioni però è contro insomma sì un'altra cosa che mi sento di dire è che soprattutto quando si è in pochi capire quali sono le attività cioè cercare di dedicare la maggior parte possibile del tempo a fare il lavoro per cui veniamo pagati quindi alcune cose esternalizzabili tipo la contabilità tipo l'organizzazione la segreteria eccetera eccetera io penso che valga la pena mandarle fuori qualunque sia la forma anche stare in cooperativa è un modo per farlo cioè essere in cooperativa ecco se Cristiano vuole raccontare però ecco io il motivo per cui sono entrato in cooperativa la molla è stata simile a quella che diceva Giorgio avevo l'opportunità di prendere dei bandi pubblici sottoscrivendo in pieno il post di Alessandra su vada e retro lavorare con la PA il bando però c'è la possibilità che fosse sul MEPA mercato elettronico eccetera Piero non è che per caso la cooperativa sa lavorare col MEPA abbiamo un ufficio apposta che se ne occupa quindi tutta la dinamica è stata ciao comune mi dici il numero del bando Piero partecipi a quel bando questo è stato il mio rapporto con la PA e 18 giorni dopo la fine del progetto ho ricevuto i soldi fine se penso a tutto il casino io dico Chiara puoi gestire l'iscrizione al MEPA di digital update si diamo uguale idem la fatturazione sono pigro ce le ho tutte e mettere le fatture che barba portale a questo devi chiedere X a quest'altro Y a fine mese devi sopportare la segretaria che ti dice Ciccio entro il 3 devi farle capita esatto questa è stata la molla e in effetti sono contento di quello non è stata non mi ha portato non è un'associazione non è stato fatto perché Piero mi ha promesso che se entro ci sono valanghe di opportunità poi se arrivano se sei qua in realtà sono dei preventivi in ballo potrebbe anche capitare ma non è stata quella molla è stata proprio la gestione e quella dei bandi poi non era stato il blunico ma anche altri ci avrei rinunciato perché insomma non mi sarei mai strutturato per capire cioè quando ho guardato come ci si scrive chiudi punto sì ma è quel genere di attività che o sai come farle le fai spesso se no tutte le volte che ti sei già bruciato due giorni più le bestemmie che hai tirato una settimana di lavoro subottimale per il nervoso che ti è preso non vale la pena che va per due giorni assolutamente se sente sì allora io ho fatto diciamo tutto il percorso di chi è cresciuto molto come libero professionista e a un certo punto sente proprio questa esigenza di offrire maggiori servizi rispetto a quelli che erano le mie competenze soprattutto per avere degli interlocutori più grandi quindi ad esempio alcuni tipi di aziende devo dire che adesso l'atmosfera è cambiata molto però non prendevano in considerazione un libero professionista da solo anche se come me che il mio studio si chiama quattro mani sapevo fare tante cose però dovevo parlare al plurale dovevo far finta di avere un grande ufficio dovevo dare l'idea che dietro di me ci fossero tantissime persone perché se no non venivo presa in considerazione dopo varie esperienze una delle soluzioni che avevamo trovato è di aprire uno studio condiviso pupilla forse qualcuno c'è anche stato in cui avevamo messo insieme delle competenze proprio completamente diverse quindi un fotografo professionale io che mi occupavo della grafica della comunicazione e diciamo un altro grafico che però era molto più tecnico quindi lavorava anche molto con la gestione delle immagini con la sistemazione dei video eccetera eccetera e noi ci presentavamo con un brand unico anche se in realtà eravamo tre partite IVA separate questa diciamo questa soluzione che però era di un po' di tempo fa diciamo ha risolto per noi abbastanza i problemi soprattutto di presentazione la distribuzione del lavoro scusa del lavoro era abbastanza chiara nel senso perché avendo delle competenze completamente diverse quindi o lavoravamo tutti insieme o veniva attivato qualcuno di noi quindi poi venivano diciamo retribuiti i lavori che venivano fatti in contemporanea questo tipo di lavoro ed era anche faceva parte anche un po' del mio piccolo sogno c'era la gestione dello spazio quindi il nostro guadagno era su anche sul gestire questo spazio qui questo ci permetteva di avere diciamo delle entrate ulteriori perché affittevamo gli spazi del nostro studio anche altri liberi professionisti che facevano magari dei corsi e delle organizzazioni così con questi soldi qui noi riuscivamo diciamo a sostenere tutti quegli spazi neutri di costi che sono la gestione una gestione comune qualcuno che si occupava di un po' pubblicizzare diciamo questa situazione e questo questa esperienza però si è fermata un po' quando a parte diciamo accordi o disaccordi interni quando anche questo tipo di esperienza aveva un limite quindi eravamo di fronte alla scelta di fare anche noi una società e qui vorrei aggiungere una domanda alle domande che sono state fatte che è questa di fronte a una scelta di società oltre alla voglia di crescere c'è anche un po' l'idea di che cosa ci vogliamo occupare e come ci vogliamo occupare del nostro lavoro secondo me ed è il motivo per cui non ho fatto una società è fare una società e comunque dedicargli veramente molto tempo e molta parte della nostra vita e soprattutto essere responsabili anche di altri e quindi mettere in campo altre persone gestirle mettere in piedi delle altre professionalità che contano su di te per andare avanti io personalmente rispetto a questa cosa siccome sono una girandolona e mi piace muovermi in tutto il mondo ho scelto di non percorrere questa strada la strada che sto percorrendo adesso comunque diciamo malgrado questa scelta riduttiva è di creare una rete di professionisti in cui però di fatto io sono il capo cordata cioè io sono la faccia che porta avanti le professionalità io scelgo il network e poi dopo a questo punto io mi assumo l'onere di tutta la filiera insomma e non ho grandi risposte se non il fatto che forse la risposta più grande è quello che ti risuona di più cioè ci sono oggettivamente delle scelte amministrative che probabilmente sono le scelte giuste bisogna vedere se poi uno se la sente di farlo o meno e se questo risponde a una ulteriore complicazione poi viene dal fatto che chi sceglie di fare un forfettario per esempio io in passato rivendevo anche servizi di fornitori tipo stampa tipo avendo dei ricarichi su queste cose chiaramente quando scegli di diventare un forfettario per un'altra serie di motivi questa cosa non ti funziona più quindi anche certe economie di scala che magari facevo con alcune cose non ci sono più quindi nel mio caso la scelta è molto personale dal punto di vista professionale tutte le forme aggregative secondo me sono un'ottima maniera di crescere quindi per chi è intenzionato direi è la cosa migliore allora io vi racconto una cosa un po' diversa perché fino all'anno scorso avevo una società che non era una società cioè con una partita IVA di quelle spaventate quindi la partita IVA da forfettaria avevo creato un brand il brand andava bene e quando però mi presentavo le società le società mi chiedevano ovviamente la documentazione che si chiede a una società perché io non mi presentavo con il mio nome ma come la mia società che si chiama Officina Microtesti ah alzo ok scusate a un certo punto il commercialista mi ha detto basta devi passare ad una forma più strutturata per un freelance diventare qualcosa di più strutturato è spaventoso ma soprattutto ti richiede di guardare il mondo in un modo diverso nel senso con la società puoi scaricare altri costi puoi partecipare appunto al MEPA puoi scriverti dove ti pare se vuoi però diventi più grande e devi anche cambiare tanto la tua mentalità rispetto al modo in cui lavori perché anche se la società in realtà io sono quasi amministratore cioè io sono amministratore unico e sono socio di maggioranza però sostanzialmente è una società quindi tutte le volte che lavoro con persone esterne in questi mesi il lavoro maggiore è stato quello di imparare a togliere il peso da me e spostarlo sulle altre persone quindi per esempio come dicevano prima l'amministrazione ma non è soltanto quello è che tu a capo di una società per quanto magari non sia ancora una società strutturata non sei più un freelance questo passaggio che purtroppo per molti freelance è obbligato proprio per una questione fiscale cioè di scarico di tutti quanti costi di accesso a delle possibilità diverse a finanziamenti fondi di tutto io l'ho fatto anche perché in Abruzzo c'erano dei fondi per l'imprenditoria femminile quindi l'ho dovuto fare ma o rimani freelance con la partita IVA di società e però perdi delle possibilità oppure ti strutturi allora ve lo chiedo siete sareste voi in grado oggi così di dividere quello che fate già da sole quindi la contabilità la promozione i social il marketing il business strategy tutto quello che fate ora sareste in grado di dividerlo con altre persone alzi la mano chi dice sì io già lo faccio ok uno due tre vi faccio i complimenti perché è molto difficile la parte più complicata è proprio questa perché non sei più la persona si parlava appunto di sindrome dell'impostore la persona che ha su di sé tutti i pesi e che dice faccio tutto quanto io poi diventa che devi fidarti e affidarti e lì c'è una grandissima complicazione io ho fatto un po' quello che si è detto finora ho cominciato a lavorare con dei collaboratori e dividere piano piano all'inizio con un'altra società quindi avevamo due società un fotografo che era una cosa assurda perché a chi fattura quindi metà a me metà all'altro fattura direttamente al cliente allora cosa serve la società quindi devo dire che per me da freelance forfettario appunto quindi senza essere passata per l'ordinario in cui scarichi passare alla società è stato obbligato ma difficile poi magari l'anno prossimo vi racconterò come è andata però vi devo dire che in questo momento la maggiore difficoltà per me è questa anzi se qualcuno ha una risposta e mi sa aiutare grazie io lascio la parola a chi vuole allora non ho una risposta ma vi racconto un po' di esperienze di riflessioni allora secondo me molta della risposta dipende da qual è il target di cliente che ti stai dando e se si tratta di un progetto o di un target su cui vuoi orientarti in maniera un po' più stabile o prevalente perché nella mia esperienza io ho collaborato quando mi sono licenziata dall'azienda ho iniziato a lavorare come partita IVA ho collaborato con una società di consulenza grossa e lavoravo con clienti e aziende grosse e oggettivamente la singola partita IVA non è guardata particolarmente bene quindi l'SRL diventa per molte aziende grandi un requisito necessario per entrare nel loro albo fornitori la sintetizzo così e anche sulla cooperativa se penso ad alcune delle aziende con cui ho lavorato hanno delle perplessità più o meno fondate ma molti ce le hanno ecco poi dipende anche dal tipo di business io ho iniziato a lavorare con banche assicurazioni se ti presenti come una cooperativa cioè ho fatto eccezione per banca etica cioè anche no quindi questo è un tema e per una parte della mia esperienza anche io ho fatto una cosa molto simile a quella che raccontava Alessandra quindi per un tipo particolare di attività di consulenza avevo un'altra persona un'altra partita IVA con cui collaboravo da tantissimo tempo 6, 7, 8 anni ci siamo presentate come team quindi non avevamo nemmeno un brand a un certo punto i volumi aumentavano facciamole passare e abbiamo costituito una SAS dicendo ok la nostra esperienza è rodata regolarizziamo la nostra unione un po' come il loro discorso così facilitiamo le cose inizialmente appunto fatturavamo una parte di attività una erano complementari le due parti di attività e una parte di attività l'altra quindi in maniera molto semplice solo che il matrimonio non è andato bene e non è andato bene tanto su questioni finanziarie quanto sul come gestiamo la società quali sono gli obiettivi che si dà alla società cioè dove vogliamo andare come target eravamo rodatissime sulla parte operativa sulla gestione dei progetti ma sul dove andare e quindi dopo un anno e mezzo ce la siamo tolta velocemente e quindi ci siamo separate per cui anche questo secondo me in termini di può esserci la formula societaria che poi funziona ma capire dove si vuole andare cioè è un salto gestionale diverso non è solo la gestione del progetto ma è qualcosa di un po' più ampio in termini anche di orizzonte di obiettivi dall'altro lato è anche vero che dopo aver lavorato per altri con forme societarie degne di considerazione da parte di aziende grandi mi è capitato di dare continuità al lavoro con grossi aziende con la mia partita IVA ma perché ormai la garanzia cioè sono riusciti a gestire l'eccezione rispetto al loro albo fornitore perché ormai io ero un professionista fidato e questo ha portato anche in alcune occasioni a coinvolgere altre persone facendo accettare il fatto di facciamo più fatture anche ad altri professionisti con altre partite IVA ma a quel punto il garante della cosa anche se in maniera del tutto informale era la relazione che si era ormai instaurata tra me e il cliente quindi in quel caso ho bypassato completamente questo tipo di problema però quando crescono i volumi e i progetti diventano complessi quindi richiedono professionalità diverse penso a tante attività di project management o a livello organizzativo in realtà la questione è aperta cioè ci vorrebbe la forma societaria per me SRL è il riferimento attraverso cui far passare cose quindi basta ne ho passate almeno due o tre di queste opzioni quindi io peraltro da un certo punto di vista cioè prima di diventare freelance prima di cominciare a lavorare in maniera informale con Gianluca e poi decidere di fare un SRL ero stata in un SRL anzi prima in una SAS con l'ingegnere poi in un SRL con altri soci di cui sono stata amministratore delegato ecco qui per me la cosa molto formativa pur nella sofferenza di quella esperienza è stato capire meglio come funzionano tutta una serie di questioni dal punto di vista fiscale economico leggere un bilancio preparare un bilancio eccetera eccetera quando io sono uscita dall'SRL alla fine del 2009 ho detto mai più in società con nessuno mai più e infatti e infatti poi dopo l'ho rifatto però lì c'entrava il fatto che ero stata in società con mio marito che era una cosa che mi aveva profondamente segnata quindi massimo rispetto per voi era parte della sofferenza Claudia io avrei una domanda e so di allora intanto ringrazio chi ha sdoganato la tenuta mare perché così mi sento meno colpevole anch'io ma una domanda che so che significa scoperchiare un vaso di Pandora enorme sono sempre stata partita IVA normale ai miei tempi non c'era il forfettario quando è arrivato non lo potevo fare quindi ok e ho moltissimi fornitori quindi la parte di lavoro che terzi fatturano a me direi che supera senza il quasi la parte di lavoro che faccio io e il mio commercialista mi tampina da anni sul fatto di diventare almeno ditta individuale o società ma non ho un socio e quindi il grosso freno però è stato posto dallo stesso commercialista su parolina magica l'IMS alla quale io ho versato paccate di soldi per decenni e c'è un po' il timore che nel passaggio da una gestione all'altra la famosa riconciliazione insomma ci possa essere non ci possa essere quindi in realtà non sto dando nessuna risposta o una domanda aggiuntiva a quelle che sono già state fatte come si dice c'è un commercialista in sala con me no è difficile io penso comunque ci sono tanti casi ogni caso è diverso Chiara non so se vuoi venire a dire qualcosa Chiara 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 chiudi il freelance camp dicendo qualcosa di memorabile sulla buona gestione parlaci dell'Inps nel suo caso è meno peggio perché da libera professionista è Inps gestione separata e passi a Inps artigiani o commercianti ma sempre Inps l'importante è quello e quando passi da una cassa privata o come me che avevo anche versato all'Inpdap no se Inps che rimanga in piedi l'Inps è un altro problema ma se Inps dovrebbe confluire se ci sarà un'Inps se ci sarà un'Inps però premessa avete una gran confusione ancora fra libero professionista e la partita è sempre una partita la differenza la fanno i contributi non libero professionista ditta individuale è sempre partita e al MEPA partecipano anche i singoli in studio abbiamo visto svariate società tranne i presenti litigare per cui abbiamo un modo di dire che le società vanno fatte in numero dispari minore di 3 però si fa cioè la differenza grossa è che con le società paghi meno diciamo puoi scaricare dei costi che da professionista dipende dipende da quali costi hai veramente ogni caso è diverso il forfettario il solito discorso non è che non scarica niente scarica in parte però scarica forfettariamente lì bisogna fare la convenienza se ho più costi di quelli del margine del coefficiente di redditività però non è che una cosa conviene più dell'altra è sempre il caso singolo altre domande? però non spaventatevi no però capire capire cioè in realtà la gestione il fisco italiano e la prevedenza italiana sono ovviamente complicati con un sacco di casi differenti eccetera però due tre criteri base bisogna saperli io spesso a volte mi arriva della gente che lavora per noi e non sa neanche la differenza fra una fattura e una nota di prestazione occasionale e a me delle volte viene da dire se ti devi guadagnare da vivere oppure che ci scrivono dicendo io sono nei minimi quindi mi fate non mi serve la fattura non mi serve la fattura io la faccio la fattura non è che serve a te serve a me devo fartela oppure ma io l'iva non la metto quindi non voglio pagare l'iva sul corso che faccio che bel mondo sarebbe bello ma purtroppo io l'iva la devo mettere quindi due cose su come funzionano è bene saperle per lavorare meglio anche per non fare se siete partitive fate domande o affermazioni del genere sì fatevi delle domande sì anche perché vabbè io sono alzo un sopracciglio e dico vabbè bravo però magari un altro fornito un altro cliente potrebbe dire con chi sto lavorando cioè sei in grado di fare ecco la grossa differenza poi fra società e forfettario finché stiamo nel semplificato è che nell'ordinaria i movimenti non esce niente di cassa che non sia giustificato dalla pezza quindi passa tutto deve passare tutto in contabilità cosa che un forfettario finché sei semplificata invece vivi in questo mondo meraviglioso in cui ti fai gli stipendi le spese dopo non è così quindi essere anche un po' ordinati imparare a organizzarsi fare un po' di rodaggio la riconciliazione bancaria quelle cose lì molto simpate tenere traccia tenere i documenti sapere dove recuperare le cose è molto importante l'altra grossa differenza che non vi dicono quando fate le società è che cambia il costo del commercialista da privato a società c'è il bilancio c'è la carriera certo certo non sono i 100 euro di camera di commercio all'anno è che il commercialista passa da 1200 a 4000 a 5000 all'anno che insomma uno dice ne vale la pena perché le pratiche sono diverse non è che facciamo così il commercialista è che deve gestire è una burocrazia totalmente diversa una mole di lavoro completamente diversa già appunto far capire che mi devi far vedere anche quando compri fancobolli è fatica sì parlare col commercialista scegliersi bene i commercialisti esatto non chiedete su facebook che vi rispondono cani e porci che non fanno neanche quello di lavoro chiedetelo come il medico di famiglia il commercialista deve essere qualcuno di cui vi fidate con cui riuscite a parlare non che ah non lo chiedo perché dopo chissà cosa pensa chiedo su facebook perché perché e poi c'è anche da dire rispetto cioè io ho visto visto che faccio lavoro nel digitale da ormai più di 20 anni è chiaro che 20 anni fa il commercialista non aveva più pallida idea di che cosa facessi quindi ho dovuto insegnare un sacco di cose ai miei commercialisti che non mi hanno pagata per questo ma in realtà mi hanno fornito non negli ultimi anni devo dire nei primi anni ho passato i primi anni veramente a dover spiegare tantissime cose però come diceva Alessandro prima cioè abbiamo il problema che la burocrazia i codici attività stessi sono degli anni 70 certo cioè ci dobbiamo arrangiare io come voi probabilmente ero entrata nel mondo della contabilità pensavo fosse tutto bianco o nero no è tutto interpretazione assolutamente perché spiegare cose insegnare cose al proprio commercialista significa anche comunque lavorarci meglio e avere dei consigli e delle opinioni più fondate quindi vale la pena perché poi ognuno magari ha un'attività specifica che si andrebbe ben spiegata invece molti arrivano che non hanno un'idea di cosa stanno facendo neanche di dove stanno andando consapevolezza cercare chiarezza organizzazione delega insomma due robe semplici e non paura si fa tutto e i dipendenti pagano di più fatevi con state sereni i dipendenti pagano di più confermo vado via bene basta signori dopo tutti questi messaggi di speranza peace and love no mi fa piacere comunque cioè che il tema di questa chiacchierata finale sia stato anche sul come crescere che non è neanche detto che sia una strada obbligata cioè si può anche capire confrontandosi con tutte le questioni legate alla crescita che magari non si ha voglia di crescere tanto in quantità ma si ha voglia di lavorare sulla qualità del proprio lavoro e di magari restare tranquillamente nel forfettario all'interno dei suoi limiti e dedicare del tempo a fare altro che non sia pagato questo è totalmente lecito l'importante è che capiamo le implicazioni delle scelte che facciamo che è un po' il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni insieme e che penso che continueremo a fare l'interno di Grazie per la visione!